Ponte Vomano e San Buceto approcciano questo match con stati d'animo differenti. I ragazzi di Piccioni vengono da un periodo favorevole ed in casa hanno vinto in sei degli ultimi otto impegni. Gli ospiti invece vanno a caccia del primo successo del 2022 per riallontanarsi dalle zone calde della classifica. La gara si accende all'improvviso al decimo con un'occasione per parte. Sugli sviluppi di un fallo laterale ospiti pericolosi con Miccichè che si gira in area di rigore impegnando Gava. Sul capovolgimento di fronte Polisena in becca Touret che a tu per tu con Dedeo non riesce a spedire la palla nel sacco. Al ventesimo dopo un'azione insistita di Polisena Dorazio finisce a terra in area di rigore. Carluccio indica il dischetto e dopo un confronto col secondo assistente Zugaro conferma la propria decisione. Dagli 11 metri si presenta Polisena che spiazza Dedeo portando in vantaggio i padroni di casa che però al venticinquesimo rimangono in dieci per l'espulsione di Gardini, reo di aver colpito un difensore avversario a palla lontana. Gli ultimi due episodi incattiviscono il match con gli scontri e le proteste che crescono col passare dei minuti. In chiusura di tempo calcio di punizione di Angelo Cernaz e palla che sfiora la traversa. Passiamo alla cronaca della ripresa guidati dalle immagini di Maria Carannante. In avvio di seconda frazione il Sambuceto va a caccia del pari, peccando di precisione e facendosi prendere talvolta dalla frenesia. Al ventunesimo invece Ranieri va giù in aria. Per l'arbitro è ancora rigore, questa volta per il Sambuceto, ma Miccichè si fa ipnotizzare Dagava che si distende alla sua sinistra bloccando la sfera. Polisena fa reparto da solo ed al ventitresimo è ancora Caparbio presentandosi di danzi all'estremo difensore avversario, ma il suo diagonale non inquadra lo specchio della porta. Il Ponte Vomano, nonostante l'inferiorità numerica, non corre particolari rischi, difendendosi con ordine e sacrificio fino al quarantunesimo, quando il pari arriva quasi come un fulmine a ciel sereno. A realizzare Mattia Bruni è entrato in campo all'inizio ripresa. Nel finale, col Ponte Vomano rimasto in nove per l'espulsione di Leonzi, sono gli ospiti a provarci con più veemenza. Ma dopo oltre sei minuti di recupero, Carluccio sancisce il risultato di parità. Mister Piccioni, avete resistito per oltre un'ora in inferiorità numerica, mantenendo il vantaggio senza incontrare particolari difficoltà fino alla beffa finale. Sì, è un peccato perché il gol del pari è arrivato a cinque minuti alla fine, però onestamente il Sambuceto ha meritato il pareggio, giocare settanta minuti in dieci è difficile, abbiamo speso tante energie e quindi non recrimino sul risultato, ripeto che è giusto perché alla fine abbiamo fatto un tempo a testa, un ottimo Ponte Vomano fino all'espulsione e poi è normale che uno in meno con una squadra che comunque sta sotto, ma vi posso assicurare che è forte, soprattutto a nomi. Il rammarico più grande è quello di perdere la testa perché non possiamo finire una partita così importante in nove e quindi pregiudicare, oltre al risultato di oggi dove abbiamo preso la cinque minuti alla fine, ma anche le successive partite. E questo ho capito che è una squadra giovane, ma se si vuole arrivare all'obiettivo della salvezza non può succedere, perché domenica andremo a giocare un'altra partita fondamentale per noi come lo sono tutti ad Alba Adriatica e avremo almeno tre squalificati sicuro. E questa è la cosa che mi fa arrabbiare più di tutti. Ripeto, il risultato, i ragazzi ci hanno messo l'anima, li devo ringraziare perché giocare in dieci per oltre un'ora è difficilissimo, quindi il pareggio è giusto, non è quello che mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare il comportamento di alcuni giocatori che non capiscono l'importanza di ogni partita che ci stiamo giocando veramente tanto, quando abbiamo fatto tre mesi di sacrificio per rimetterci in carreggiata e sarebbe un peccato buttare via adesso solo per degli atteggiamenti sbagliati. Giocare su questo campo non è un altro sport, non è il calcio, quindi sapevamo la forza dell'avversario che tranne l'inizio dove ha avuto grandi difficoltà, poi è divinata una squadra forse la più in salute del momento, quindi sapevamo la difficoltà del campo. Siamo andati sotto per un rigore inesistente, anche l'assistente l'ha detto all'Albido, ma l'Albido ha voluto darlo lo stesso e quella cosa poteva ammazzarci, non era semplice. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione, loro, però ripeto, quando il campo è in queste condizioni i valori tecnici si annullano e quindi era sempre una battaglia sulla seconda palla di continuo. La squadra però ha dato tutto, ci abbiamo provato e non era facile contro questo Ponte Romano su questo campo. L'episodio del rigore poteva permetterci anche di vincerla poi, perché in quel momento l'inerzia della gara era tutta dalla nostra parte e se riusciamo a far gol sul rigore magari mancano parecchi minuti e la possiamo anche vincere. Però va bene così perché la squadra non ha mollato di un centimetro, sapendo le difficoltà si è compattata, ha dato tutto quello che aveva e ha strameritato questo pareggio. Quindi andiamo avanti e adesso pensiamo a questo evento importante per tutta la società, per i ragazzi, per noi. Quindi mercoledì ci andremo a giocare questa finale Coppa Italia.